Grazie a tutti Tra domanda e offerta di lavoro Dare anche una risposta Ai ragazzi che cercano un posto di lavoro I giovani devono seguire La loro passione Costruisci il tuo futuro, realizza il tuo gol Ci vuole un percorso per qualsiasi Professione uno possa arrivare Per orientare giovani e famiglie Verso una scelta più consapevole E in linea con i fabbisogni delle imprese Far capire che venire in azienda È un lavoro che qualifica I'm a cold, cold man Hablando spagnolo Puede essersi da dana del mondo C'è un uo, ho la prana delle france Pure tu dietra, raiere e vogliagere Speaking in English I can communicate with all the citizens of the world You're the only one we're seeing You're the only place we're being You're the only bear we're sleeping The one we're next to you Oh my love I know you're used to desperate men Who say the words at all Queste imprese sono da Insomma da prendere come esempio Perché nonostante le avversità Hanno comunque lottato Dando anche possibilità ai giovani Di intraprendere un percorso lavorativo Mille ragazze che stanno girando Tra i nostri imprenditori Abbiamo bisogno di professionalità Quanta volontà, quanto impegno c'è Quanta volontà, quanto impegno c'è Grazie! Grazie! Grazie!